Con i fondi del PNRR, l'Asle di Teramo ha annunciato una serie di progetti per trasformare l'assistenza territoriale e avvicinare i servizi sanitari ai cittadini. Il direttore generale dell'Asle di Teramo, Maurizio Giosia, ha sottolineato che il DM77 ha avviato una grande rivoluzione ispirata anche dalla pandemia che supera la vecchia logica ospedalocentrica. L'Asle di Teramo dispone di oltre 19 milioni di euro della missione 6 del PNRR per realizzare 8 nuove strutture di prossimità, alcune già in fase di lavoro o di appalto, in anticipo rispetto al resto del Paese. Questo è il compito che si è prefisso del PNRR e questo è il compito del DM77. Noi lo stiamo attuando in aderenza a tutto quanto previsto. Adesso partiranno la realizzazione di tutte le strutture che sono necessarie per l'attuazione del piano, come sono le case di comunità, gli ospedali di comunità, le COT, con le loro rispettive funzioni di integrazione dell'attività ospedaliera. Stiamo pensando non solo a realizzazione delle strutture in questa fase che sono importanti perché alcune vanno realizzate ex novo, altre vanno ristrutturate e quindi ci sarà un impatto importante sull'assistenza del cittadino. Le nuove strutture sono gli ospedali di comunità, le case di comunità e le COT, ovvero le centrali operative territoriali. In totale l'investimento previsto è di 12,8 milioni di euro per le case di comunità, 5,7 per gli ospedali e 475 mila euro per le COT. Ma soprattutto lo stiamo vedendo in una rete anche di essere pronti nel momento in cui dovranno entrare in funzione con l'assetto di personale necessario e con tutto quanto sarà necessario appunto per far sì che non verranno realizzate delle scatole vuote ma sia delle strutture già operanti e noi appunto già da adesso ci stiamo preparando a questo.